Gossip Uedì, Maria De Filippi umilia Tina, ecco la reazione a favore di Gemma. Uomini e donne Gossip News, Tina Cipollari nei guai con Maria De Filippi? Ecco perché. . . Bufera a uomini e donne, Maria De Filippi contro Tina Cipollari?. . Nel dettaglio le Gossip News su Edi rivelano che Tina Cipollari dopo lennesimo scontro che cè stato in studio con la Galgani, ha scelto di rovesciare una bottiglietta dacqua sulla testa della sua nemica giurata e questo gesto ha suscitato molto clamore sia in studio che tra il pubblico da casa che segue e commenta le puntate del Trono Over sui social. . . Grande stupore ha suscitato la reazione di Maria De Filippi, la quale ha fermato in tempo cancelletto Gemma Galgani dopo aver visto che la dama turinese si stava alterando e stava avendo una reazione nei confronti di Tina Cipollari dopo essere stata umiliata miseramente in trasmissione. . La De Filippi difende Gemma nello scontro con Tina?. . A quel punto, però, la De Filippi lha fermata chiedendole di continuare ad essere una signora in trasmissione così come ha fatto fino a questo momento e quindi evitando di avere una reazione nei confronti della sua nemica giurata Tina. . Sta di fatto che dopo questo scontro che cè stato in trasmissione tra le due dame, la De Filippi non avrebbe gradito la reazione clamorosa di Tina Cipollari e già in puntata sembrava che avesse assunto le difese di Gemma, quasi come se avesse voluto sottolineare che lei a differenza di Tina si è sempre comportata da signora. . Intanto sul web non si placano le polemiche dopo lo scontro che cè stato in studio tra Tina e Gemma, sui social hanno chiesto alla produzione di uomini e donne di prendere dei provvedimenti nei confronti della Cipollari, o quantomeno chiederle di scusarsi pubblicamente con la Galgani dopo la sua sfuriata in trasmissione che stavolta ha davvero oltrepassato il limite consentito. . Cosa succederà a questo punto? Ci saranno le scuse di Tina nei confronti di Gemma oppure la polemica social di queste ore passerà inosservata? Vi aggiorneremo nelle prossime ore, seguite intanto il canale ufficiale di U&D. .